Cina di San Valentino al bel sito Telle Due Torri, info e prenotazioni 0825 67 00 01 In generale posso dire che comunque si riconfigura una situazione di vittimizzazione che porta poi appunto a dei vissuti di solitudine, isolamento e risentimento. E questi atteggiamenti, queste conseguenze possono avere degli ulteriori conseguenze, degli ulteriori peggioramenti quando l'adolescente in questione si rende conto, ad esempio, che non è creduto, che non è creduto fino in fondo? Certo, molto spesso c'è un atteggiamento di negazione da parte della comunità e degli adulti di riferimento perché accettare quello che è successo sarebbe molto grave, sarebbe difficile, sarebbe complicato per chi ascolta accettare tanta violenza e tanta ferocia nei confronti di una persona, di un individuo del proprio gruppo, della propria famiglia o proprio della propria città. Insomma, questo è quello che può succedere, un atteggiamento di negazione per evitare di prendere poi anche delle contromisure. Chiederei se fossi gli adulti di riferimento un intervento psicologico sull'intero gruppo.